Ehi, Steph! Sì, chi parla, scusi? Sono io, Dino, qui di fronte a te! Ok, mi dica, Dino! Devi entrare in questo portale! Quello? Sì, sì, quello davanti a te! Mille avventure ti aspettano! Grazie mille, Dino, ma io non mi fido molto di lei e soprattutto non vado senza Ferinichi, mi spiace! Entra in quell'accidente di portale, guarda, devi sempre rovinare tutto! Scusami, Ferre! Ferre, sei tu a fare le trappole, mi fai passare dritta! Ok, ok, ci sto! Ero uguale, ero uguale! E poi amassi tutti gli altri! Ehi, ragazzi, come va? Io sono Ferinichi! E io sono Steph, e che stagio chiama Roblox! E stiamo tornati negli escape! Questa volta dovremmo scappare da questa specie di foresta magica, credo! Non sapevo bene cosa stiamo! Ma che dici? Stiamo giocando a nascondino! Io mi sono appena nascosto, Ferre! Steph, dove sei? Ferre, mi sei nascosto! Allora, io so già che sei probabilmente esatto qui dietro, perché sei banale come non so che cosa! Non c'erano molti nascondigli, non è colpa mia! Ok, no, sì, comunque, è un escape! È molto particolare, come vedete, ci sono dei colori sparati! Io sono diventato tipo arancione, non so neanche che colore sono! Io sono frusta, sia di faccia che di capelli, totalmente! Ok, comunque, molto particolare! La stava giocando solo una persona, l'ho trovata, ho fatto, dai, proviamolo! Sembra carino! Proviamo un pochettino a scappare da una foresta magica! Adesso prendi e muori! No, non è morta, signori, guardate come fa! Mi hai portato sfiga! Mi hai assolutamente portato sfiga! Ti sistemo in pezzetti piano piano, ti aggiusto, Ferre! No, non ci tengo, guarda, mi sono già ricomposta! Faccio un puzzle con i tuoi pezzi! E sono prontissima senza di te, no? Grazie, no? Grazie! Peccato, peccato, io ti volevo dare una mano! Allora, scatta di nuovo! Mi hai spinto! Ferre, hai davvero chiuso la mappa? Sì! Così impari ad avermi spinto! Ferre, perché hai chiuso? Torna dal tuo staff! No, 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 grazie, non mi interessa! Dai, scusami! Tef, devi andare da questa parte! Non ci riprovare! Ho una challenge per te! Dimmi! Vedi come è fatto questo posto? Sì, lo vedo! Facciamo che non possiamo saltare su tutti, ma ne dobbiamo saltare almeno uno? Quindi praticamente sarebbe... Direttamente al fiore rosso! Ta, ta, ta! Ok, dalla roccia dove sono io? Ok, togliti! Vai! Vedi quella cosa? Sì, lo vedo, è un serpente! Esatto! Loro pretendono che io vada dentro la bocca di un serpente? Sì, Steph, devi entrare qua! Ferre? Sono nascosta, secondo te? No, non molto! Sì, Steph, vieni! E poi ti stai nascondendo nella faccia di un tizio che non è proprio bello! Ma che gli è successo? Mamma mia! È entrato dentro la bocca di un serpente! Mamma, ma non stai bene, vero? Allora, vai a riposarti, mettiti sotto un albero a prendere un po' di fresco, cioè non ti senti così tanto bene! Puoi andare prima tu? Sì, vado! Ok, grazie! Fammi sapere se è tutto ok e poi magari entro! Ok, aspetta, aspetta! Portale, portale! Sì, sì, sto aspettando! Sì, sì, sì! Tutto ok? Sì! Sicura? Sì, sì! Arrivo, arrivo! Addirittura ci sono i toast come piacciono a te, quindi se vuoi venire, guarda! Dov'è? Quello, dopo la carne in scatola c'è il toast! Aspetta, ti dico se mi piace, allora... No, perché vedo sia del pomodoro che della maionese, quindi non è adatto a Steph! Ok, mi dispiace! Quello adatto a Steph ha sottiletta, prosciutto cotto, sottiletta! Non c'è bisogno di raccontarci come ti piacciono i toast! Le sottilette, quelle della... Qual è la marca più famosa delle sottilette? Come si chiama? Craft? Boh! È vero? Non lo so! Quelle che mangio sempre, non mi ricordo! Io se penso alla pubblicità delle sottilette mi viene in mente sottilette craft! Quelle che... Capito? Quelle lunghe! Comunque è una confezione gialla e sono le più buone per i toast, perché quando si sciolgono sono buonissime! Mio Dio, che buoni toast! Adesso me ne vado a fare uno! Fere, 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 fere! Che succede? Questo qua, il cappello di Jack Sparrow, l'hanno messo come una delle nuove cose, dobbiamo fare il prossimo video di Roblox, ragazzi, sarà su quello, ehm... Vai velocissimo, no, vai velocissimo, sì, lo sapevo, ma non pensavo così tanto, veloce! Ok, lo facciamo insieme? Sì, comunque voglio fare le cose dei pirotti, che bello! Sì, lo facciamo la prossima volta, andiamo! Ok, ok... Perché quando salti rallenti molto, dobbiamo azzeccare bene il tempismo! Ok, ok, ce la possiamo fare! Ok, 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 ok... Siamo insieme, siamo insieme, siamo insieme, continuiamo! Oh, beh, mi sono mezzo incastrato, ok? Anche io, però vai, 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 vai! Ce l'abbiamo fatta! Eh, spero di sì, fere! Finito, finito, finito! Ok, ok, ok! Uh, siamo tornati nella foresta magica! Ok! Buongiorno, BloomKiller07! Ah, è una consolina, ciao! Con quel nome non sembrava! Pensavo fosse un player normale anche io! Esatto, esatto! Adesso dov'è? Ci buttiamo in acqua? Non credo sia una buona idea, di solito si muore con l'acqua, fere! Vado! Ah, no, no, no! Troppo tardi? Devi andare nel bianco, vero? No, 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 no! Da qua c'è da scalare! Ho cercato di avvisarti, ma era troppo tardi, fere, scusami! Stef! Stef! Sì, dimmi! Ti sembra il momento di scattarti una foto? Nel mentre che stiamo facendo un video? Cioè, cosa hai pensato? Allora, tu stamattina mi hai fatto... Ieri ho messo io due foto su Instagram, quindi oggi ne devi mettere una tu! E quindi l'ho messa! Sì, esatto! Perché noi siamo così, ci dividiamo le foto di Instagram! Perché non siamo bravi a farci foto? Adesso le mie nuove foto di Instagram! E la pubblico dopo, ok? Ok, ok! Perfetto, perfetto! Che belline! È il miele! Ciao, appina! Carino questo livello! Ciao, appina! No, non è lava, è miele! Ah, ok, allora sì, bisogna arrampicarci! Ed è un portale? Ma entriamo dentro un alvere? Sì, 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 sì! Ma che cosa carina! Siamo nel mondo del miele, che bello! È tutto giallo! Ecco perché era la foresta magica! Vedi, adesso si sta iniziando a spiegare! E questo è l'ultimo portale? O si continua? Vediamo! Abbiamo finito! Oh, che bello! Allora, ci prendiamo il nostro badge, che è una casetta che ci saluta un po' inquietante! Ok! Dopodiché sembra che ci siano solo dei patto e che delusione! Mi mancano i vecchi escape, dove c'erano tantissimi oggetti da poter usare! Oh mio Dio, Steph, dove mi hai portato? Nel mondo dei pirati, Fede! Che bello! Che bello questa mappa! È Roblox Death Run! Lo so, lo so! Però l'hanno fatta tutta tema pirati, perché c'è il nuovo film dei pirati dei Caraibi e hanno fatto l'evento su Roblox, e quindi ci sono degli oggetti da sbloccare! C'è anche il cartellone qui sopra, infatti se avessi dei dubbi! Allora, subito lo dico, commenti e sondaggino se volete vederci fare tutte le mappe del nuovo evento per cercare di sbloccare, ed è capitata subito la mappa, ma che bello, che fortuna! Che fortuna! Dicevo, commenti e sondaggino se volete vederci fare tutte le mappe a tema pirati dei Caraibi per sbloccare tutte le cose da pirata, ma adesso ci dobbiamo concentrare! Vedi quel tesoro lì davanti a noi? Se lo prendi ti dà subito un oggetto, quindi fintina perché qua spara con i cannoni! Non ha sparato! Non ha sparato! Prendi il tesoro se ce la fai! Ma lo dà tutti? Eh boh! Tu lo vedi ancora? No! Credo che il tipo sia FK! Ok, e noi dobbiamo arrivare tra i primi tre! Ma qui c'è il tesoro ancora! Brava! Preso, preso! Qualunque cosa fosse io l'ho presa! Ok, preso anche io, preso anche io, preso anche io! Continua, continua, continua! Dicevo, dobbiamo cercare di arrivare tra i primi tre, ed è impossibile perché uno è andato dritto, perché appunto mi sono accorto che in effetti non c'è uno che sta giocando! È arrivata seconda! Come posso essere arrivata seconda? Teoricamente tu ce li hai! Ok, se mi fa, congratulation, quindi le... No! Dai, la rifacciamo per te, la rifacciamo per te! Cioè, al posto delle spalle mi posso mettere le due pistole incrociate, strabelle! No, è bellissimo! Te le rubo, te le copio perché le voglio anch'io, sono troppo belle! E poi quale altro premio potremmo prendere? Eh, l'altro premio dovrebbe essere, mi sa, questo Elmo che ha questo tizio qua, questo da scheletro... Non era il cappello di Jack Sparrow? No, mi sa che il cappello di Jack Sparrow è un'altra mappa! Vede, voglio vincere anche qua! Lo so, lo so! Anche se è inutile, voglio vincere per la gloria, Ferri, andiamo, andiamo insieme, andiamo insieme! Qua però mi ricordo benissimo cosa succede, ma non ci vuole un genio! Sì, 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 sì! Vai amico, tranquillo, tu che hai le pistole sei ganso! Allora, io direi di convincere il guest ad andare, vai guest, vai! In tira! Vai, dai, tu sei un pro dei guest, vai! Vediamo! Vai! Oh! Peccato, peccato, dai! Si meritava di sopravvivere, si meritava di sopravvivere, andiamo, comunque sfrutteremo il suo sacrificio per vincere, grazie amico! Assolutamente sì! Grazie amico con le pistole che vorrei io che non ho, comunque non te le puoi mettere, Ferri, metto il copyright! Ma dai! No, per esempio! Cioè, io le ho vinte, tu no! Sono da pir... Uh! Ma non è giusto! Ci andiamo antino là! Però sono sicuro che ci sono anche le trappole! Qui a destra ci sono i ventilatori, quindi... Ok, deve andare al guest, vai guest, vai guest! Aiuto! Guarda come sto già affilando la mia lama, sono prontissimo! Altro che le pistole! Altro che le pistole! Meglio le lame! Esatto! Vieni qua, bello, che c'è pure il cappello, la pirata che vorrei io! Vieni, vieni, dove vorresti scappare, eh? Dove vorresti scappare! Bravissimo! Mi sembrava giusta la vendetta! Mi doveva suagare! Ferri, sei tu a fare le trappole, mi fai passare dritta! Ok, ok, ci sto! E poi... Ero uguale, ero uguale! E poi ammazzi tutti gli altri, va bene? Allora, però mi devi aiutare, cioè tu mi devi dire, io passo... No, allora, per ora ammazza tutti, io sto fermo, per ora ammazza tutti! Ok, vado! Ok, bravissima, mi hai già ammazzato la metà! Lo so! Vai ancora! Ok, peccato, attento a quello lì, attento a quello lì che è davanti a tutti gli altri, eh? Eh, la prossima trappola è qui davanti, però, eh! Ok, ok, pensano a continuare ad ammazzarli! Ok! Mi raccomando, Ferre, mi raccomando, Ferre, mi stai giocando le mie pistole! Allora, io continuo ad andare dietro con calma... Ma dai, che brutta! Ma che schifo hai trappola! Ma dai, faceva schifo, pensavo gli arrivasse qualche cannonata, era terribile! Allora, concentrata, concentrata, mi raccomando! Ok! Allora, io continuo a prendere i forzieri, così mi assicuro l'altro premio! Ma dai! Sto avendo una paura di morire da solo in questo momento! Allora, c'è uno che sta correndo dritto da solo... Punta lui, punta lui, punta lui! Aspetta, aspetta, punto questi! Ok, bravissima! E vado dritta! Adesso veda gli altri, ma questi non sono neanche morti, ma che... Ma dai! Dimmi che l'ho ucciso! L'ho ucciso, l'ho ucciso! Guarda, ce l'ho fatta solo per uccidere lui, ma ti sembra? Ok, ok! Però aspetta, queste sono riattivabili, se faccio il tempo... No, no, aspetta, 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 ci sono anch'io! Vado! No, non parla! Uh, Fere! Ti ho detto di non farla, che li avrei uccisi! E ti ho detto di non attivarla! Ok, 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 vai! Vai ad ammazzarli, vai ad ammazzarli, vai ad ammazzarli, mi raccomando, eh! Ma ti sembra che ci stiamo coalizzando! Mi raccomando, Fere! Uh, ok! Massacradi! Non ti avevo ammazzato, sì, 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 sì! Ok! Vai, vai, vai! Manca solo lui, ammazza lui e poi io finisco tranquillo! Ma cos'è, cos'è a parte? Non riattivare l'attropolo di prima, eh! Ok! Ok, avevi fatto scomparire le rocce, comunque basta! Allora, io vado di qui, ok, perfetto! Lo uccido, eh, lo uccido, mi raccomando! Allora, vado io, vado io! Vai! Ok, adesso da lì in poi pensa solo a lui, io vado dritto! Ok, Fere! Fere, sono felicissimo! Che cattivoni che stiamo, è una cosa terribile, però vabbè! Mi son preso, mi son preso, mi son preso il capello! Ho fatto i dieci forzieri, quindi ho anche il capello! Ehm, ce la fai ad ammazzarlo? Eh, vabbè, fermo là, eh, quindi non lo so! Perché non ti voglio ammazzare, voglio che te lo ammazzi! Hai avuto quello che volevi? Sì, grazie! Prego! Lo so che non si fanno queste cose, ma dai, per te sì! Mi son preso! Dai, la coincidenza! Della mappa, con Fere che gioca! Ti meritavi tutti gli accessori da pirata, perché so quanto ci tieni, quindi dai, per una volta ci stavo a imbrogliare per te! Quindi, teoricamente, adesso vediamo appena scompare anche questa schermata, me lo dovrebbe dire, giusto? Sì, te lo dovrebbe dire! Ok, congratulation, perfetto! Non mi fa vedere esattamente cosa ho vinto, ma dovrei saperlo già! Teoricamente ho vinto sia le pistole che la maschera di questa mappa! Anche a me ha detto, congratulation, non so per cosa! Non è che se giochi in round, non lo so! Non lo so, però bellissimo! Comunque dai, direi di fermarci così, appunto, sondaggine, commenti, perci sapere se volete vederci giocare le altre mappe dove si vincono gli altri oggetti da pirati nel prossimo video di Roblox! Esatto! Tanti likes e tanti commenti, e ci fermiamo così! Per ragazzi, se non esiste tutto, scelteci un like! È questa la prima volta che vedete il nostro video, potete considerarli, da iscrivervi e per non perdervi gli altri episodi! Ciao, alla prossima! Ciao!